Anche la Pasqua di quest'anno è avvolta dalle tenebre, dalla violenza e dalla guerra. Vi invito a entrare in questo tempo pasquale con una domanda. Ho ancora voglia di amare? Ho voglia di mettermi in gioco? Credo ancora all'amore? Il Dio della Pasqua ci regali la convinzione profonda che non c'è alternativa alla bellezza dell'amare, che non c'è futuro senza amore. Buttiamo nella mischia la nostra determinazione a porre gesti di futuro, gesti di bontà e di solidarietà. Contribuiremo a rendere migliore il mondo e goccia dopo goccia vedremo fiorire la speranza della Pasqua. A tutti voi, buona Pasqua.